Ragazzi, oggi busciamo una nuova bustina di Pokémon Stavolta del nuovo set che hanno rilasciato da poco Ovvero, Vapori Accessi X-Y Di solito dicono che in queste bustine non ci trovano un cazzo Però io spesso un buon cifro, vabbè Per trovare... non lo so Speriamo di trovare qualcosa C'è un problema, Regis... Regia... Regia, c'è un problema Regia, non si apre Mi apra quel... Senza rompere, per favore O tre coglioni Ho la stessa ferma Ok Allora La smetti Siamo disperati L'abbiamo aperto Vediamo il colpo perché è il camisdemone Allora Abbiamo... devo fare il gioco, fermo Uno Guarda le carte Uno, due, tre Spoiler Aiuto No, l'hai pegata, sempre ti Vabbè Bella la vita Allora Allora Allora